Era il 20 maggio, quindi un mese fa, quando un terremoto di magnitudo 5,9 scosso le province di Modena, Ferrara, Bologna e Mantua. Il bilancio è di 26 vittime, 350 feriti, 14 mila sfollati e una serie incalcolabile di danni. Continua l'impegno della regione Piemonte a favore della popolazione colpita. La città di Torino ha adottato il comune di Mirandola in provincia di Modena, impegnandosi in progetti di cooperazione e di aiuto insieme a molte altre organizzazioni economiche ed imprenditoriali del capoluogo. Ricordiamo che è sempre attivo il conto corrente aperto dal Consiglio regionale per raccogliere le donazioni. Il numero di conto è 1006613754. Sono 87 volontari, 26 automezzi di 20 associazioni Ampas piemontesi, che sono ancora impegnati sul territorio per donare un po' di sollievo alla gente dell'Emilia. I volontari Ampas sono impegnati nel campo della protezione civile della regione Piemonte a San Giacomo di Mirandola, oltre che nel campo sul pazzale Andrea Costa a Mirandola, che ospita 380 persone. E nel campo di Novi di Modena, che accoglie 600 sfollati. I volontari si alternano a turni di una settimana e sono impegnati in compiti di segreteria, alle postazioni mediche, alla cucina, alla sicurezza, al controllo dei generatori elettrici, alla pulizia dei bagni. Grande anche l'impegno dei volontari nei confronti dei bambini che aiutano a fare i compiti, accompagnano nei giochi e al momento della merenda.